Bullismo e cyberbullismo. Uno studio rivela che 2 su 3 hanno età preadolescenziale, il 22% appena 5 anni e le vittime, nel 30% dei casi, attivano comportamenti di autolesionismo. Il 10% invece sviluppa pensieri sul suicidio, un vero allarme sociale che vede scendere in campo le istituzioni che ricordano il ruolo imprescindibile delle famiglie. Ci sono due aspetti, uno che io ritengo quello del privato, che è quello che compete alla famiglia. Vuoi pensare che la scuola e le istituzioni si possano sostituire alla famiglia, questo è assolutamente escluso, sarebbe gravissimo. Quindi sicuramente ci vuole una grande presenza delle famiglie, le istituzioni devono crescere i cittadini, cioè devono far crescere noi stessi nelle relazioni che abbiamo all'interno della comunità. Questo è il ruolo fondamentale delle istituzioni, ma guai a superare il limite, il confine di quello che invece è una competenza assoluta e primaria della famiglia. Il Comune di Ortona da tempo porta avanti un progetto orientato alla sensibilizzazione e formazione dei genitori, alla formazione e consulenza degli insegnanti e alla produzione di laboratori e materiali didattici rivolti agli studenti. Sono 550 i soggetti coinvolti. Molti problemi si risolverebbero semplicemente rispettando gli altri. Io dico banalmente, parafrasando qualcuno molto più in alto di me, si vorrebbe dire rispetta agli altri come rispetti te stesso. Io penso che già questo ci aiuterebbe molto. Fermo restando che ovviamente siamo arrivati a un livello purtroppo di degenerazione tale, favorito anche da quello che è un isolamento quasi autistico dei ragazzi che sempre di più rifuggono il rapporto fisico e si rinchiudono attraverso una comunicazione virtuale che molto spesso non dà probabilmente neanche il senso della gravità delle cose che si fanno. perché non si vedono le conseguenze, non si vede magari il bambino che viene colpito, non si vede la reazione di questo bambino, cioè quanto dolore si può procurare.